Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico e rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. In A12 rallentamenti tra Versilia e Sarzana in direzione Genova per un incidente adesso risolto. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale 3 Bis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Val Savignone e Canili in direzione Ravenna, chiuso lo svincolo di Canili. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per lavori tra bagni di lucca e fabbriche. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!